ma non si sente il normal infatti in questo momento il normal è innesca di brutto ecco che sei vicino sono cerati quelli abbassa pure un po' i volumi eh ma lì sa che il basso non è non distorce più che è il basso qua quello che vuole fare il pulito passandolo con un piano passandolo con un piano una prima parte dell'interAH Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.